È stato ritrovato alle prime luci dell'alba il 33enne scomparso ieri dalla residenza sociale per disabili di Podere Modello in località Capannacce, tra Castiglion Fiorentino e Cortona. L'uomo, un 33enne, con problemi psichiatrici si era allontanato volontariamente dalla casa di cura. Erano così scattate le ricerche su tutto il territorio provinciale e a Retino. Questa mattina il ritrovamento in piazza Sant'Agostino ad Arezzo. Il 33enne era in buone condizioni. È stato comunque portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per alcuni accertamenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica e le forze dell'ordine. L'uomo sta bene, scrive la cooperativa che gestisce Podere Modello ed attualmente si trova in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Un sentito ringraziamento a tutte le forze dell'ordine che si sono prodigate ininterrottamente in queste ore e a tutti i cittadini conclude la nota che in qualche modo hanno dato una mano.